l'italiano secondo e metodo natura capitolo 38 capitolo trentottesimo il foro romano abbiamo visto disse bruno proseguendo la visita del foro che il luogo nel quale ci troviamo il comizio dove si riuniva il popolo per decidere degli affari pubblici questa piazza nei primi tempi era ben più grande di quella che ci rimane oggi e che il comizio dell'epoca degli imperatori infatti questi ultimi governavano da soli senza quasi mai domandare al popolo il suo parere e poi la popolazione di roma aumentava così rapidamente che ben presto questo luogo non basto più per le riunioni del popolo così che dovette trasferirle fuori della città in un nuovo comizio fra il comizio antico il foro propriamente detto c'era un altro monumento pubblico assai interessante che si chiamava i rostri era fin dai tempi più antichi una specie di tribuna dalla quale gli oratori parlavano al popolo di roma tale tribuna aveva preso questo nome dopo che nel 338 avanti cristo vi erano stati posti i rostri delle navi da guerra di ansio una città vinta da roma e dai rostri che il famoso oratore cicerone fece al popolo romano due dei suoi forti discorsi contro catilina che aveva voluto prendere il potere con la forza delle armi e molti altri oratori fecero dai rostri antichi dei discorsi di grandissima importanza per la storia di roma ricordiamoci che nel mondo antico non esisteva nulla di veramente simile ai moderni giornali per non parlare naturalmente della radio e della televisione perciò gli affari pubblici bisognava farli conoscere al popolo direttamente e si voleva che il popolo vi partecipasse roma non aveva neppure un governo nel senso moderno della parola con un capo che si chiama primo ministro presidente nei primi secoli aveva avuto dei re ma verso il 510 avanti cristo l'ultimo re e crudele taraquinio fu scacciato dal popolo al suo posto furono eletti pure dal popolo due consoli che avevano su per giù gli stessi poteri dei rei ma c'era però una grande differenza i consoli erano eletti per un anno soltanto passato l'anno il popolo aveva il diritto di chiedere di chiedere che fosse punito un console che secondo lui avesse mal governato così che in realtà il potere era veramente nelle mani del popolo e roma era diventata una repubblica ma ciò è davvero moderno esclamò joe e bruno dovette di nuovo spiegare sì e no perché quando dico il popolo non parlo di quello che oggi in europa in america noi chiamiamo il popolo di un paese la maggior parte degli abitanti di roma rimasse per lungo tempo senza alcun potere roma fu governata dal senato il senato esclamò dorabile interrompendolo come negli stati uniti beh sì un po come in america disse bruno ridendo ma credo che la differenza sia stata assai più grande della rassomiglianza prima di tutto i membri del senato i senatori non erano eletti dal popolo quei senatori infatti erano semplicemente i capi dei grandi gruppi di persone che i romani chiamavano famiglie all'epoca repubblicana ce n'erano 300 poi 600 ed ecco appunto l'edificio in cui si riuniva il senato la curia è uno dei pochi edifici del foro che non furono distrutti perché dopo l'antichità fu trasformato in chiesa entriamo certo esclamarono i vespucci ed entrarono nella curia insieme a bruno quando si ritrovarono nel sul comizio bruno disse quello lì è l'arco di settimo seo loro sanno certo a cosa servivano gli archi del foro romano ma rispose dorabile a passarci sotto no e poi a parigi ci sotto alla tomba del soldato sconosciuto quel soldato disse bruno si chiama milite ignoto che vuol dire lo stesso con parole più alte un milite è un soldato e ignoto vuol dire sconosciuto a roma però non c'erano tombe di militi ignoti sotto gli archi quella è un'idea moderna dai nostri tempi a roma si innalzavano degli archi per gli imperatori che avevano vinto qualche grande battaglia sull'arco si raccontavano in veri e propri disegni di pietra che si chiamano bassorilievi le scene più importanti della vita dell'imperatore delle sue battaglie più grandi delle sue più importanti vittorie eccetera ma gli archi del romano cioè quelli di settimo severo di augusto oggi sparito e di tito come pure quello di costantino che si trova un po fuori al lato del colosseo servivano appunto a passare a passarci sotto come diceva lei signora adorabile ma in rari casi soltanto come loro sanno roma fu quasi sempre in guerra quando dunque un grande generale aveva vinto una battaglia che il senato sconsiderava molto importante per la nazione i senatori per ricompensarlo gli concedevano il cosiddetto trionfo ciò che gli dava il diritto di condurre in roma stessa i suoi eserciti vittoriosi un trionfo era un spettacolo immenso un corteo che faceva correre lungo il cammino del trionfatore tutto il popolo di roma provino un po a immaginarsi un trionfo il corteo entrava in roma per la porta trionfale che si che di solito era chiusa in testa al corteo venivano tutti i senatori seguiti da soldati che suonavano le trombe trionfali poi trasportati sui carri o portati dagli schiavi venivano gli oggetti preziosi tolti al nemico se il paese vinto era un paese lontano allora spesso venivano animali nuovi o interessanti per i romani leoni tigri elefanti girafe e che so io poi seguivano a piedi naturalmente in catene i più importanti prigionieri nemici talvolta fra i prigionieri c'era qualche grande generale un re ma ciò non rendeva certo molto più leggere le catene niente poteva salvarlo dalla morte poi tirato da quattro cavalli bianchissimi veniva il carro del trionfatore la sua toga che era vestito proprio dai romani era rossa con ricami d'oro nella mano e sulla fronte li portava rami di alloro che anche ai nostri tempi sono il segno del trionfo e uno schiavo li teneva sopra il capo un ramo di alloro fatto di oro puro ma affinché eli non credesse di essere diventato un dio lo stesso schiavo le ripeteva all'orecchio guardati indietro ricordati che sei un uomo dopo il carro del trionfatore venivano i soldati che contavano inni di vittoria e tutto quell'immenso corte passava sotto le archi di trionfo prima di salire al tempio di giove sul campidoglio cioè al principale tempio di roma seguì un breve silenzio i vespucci e bruno provavano a immaginarsi il corteo del trionfatore con le sue trombe i leoni le tigri e le altre belve i prigionieri in catene con tutta la folla dei romani che cantava inni di vittoria grida rideva poi bruno si rimise a camminare fra i monumenti del foro e dopo aver mostrato ai vespucci la basilica giulia e la basilica emilia si fermò sotto le colonne del tempio di saturno ai piedi del colle capitolino capitolino questo qui è uno dei più antichi templi di roma costruito nel 497 poi bruciato e ricostruito parecchie volte era qui nel tempio di saturno che fin da tempi più remoti si trovava il tesoro dello stato cioè l'oro l'argento il denaro e gli oggetti preziosi e di gran valore appartenenti allo stato al popolo romano e qui davanti alle porte del tempio di saturno che troviamo cesare cioè giulio cesare tornato a roma dopo aver varcato coi suoi soldati quel famoso rubicone il fiume che segnava la frontiera della provincia da lui governata per rimanere al potere e gli aveva bisogno di denaro il denaro era là ma il tribuno mattello che stava di guardia lo fermò rammentandogli che secondo le leggi il tesoro apparteneva al popolo e non a lui anche se lo stesso popolo l'aveva fatto dittatore cesare impaziente gli dispose non è questo il momento di parlare di leggi oggi parlano le armi apri ma mattello invece di lasciarlo passare coprì col proprio corpo la porta del tempio cesare allora prese una di quelle decisione che cambiano la storia della nazi delle nazioni per capirne il senso dobbiamo ramentarci che la legge puniva in modo sever severissimo che avesse osato alzare la mano contro un tribuno ma cesare non poteva lasciarsi fermare né da un tribuno e da chiunque altro si trovasse sul suo cammino e perciò e gli disse a metello apri o ti uccido e sapi che mi sarebbe ancora più facile farlo che dirlo il tribuno allora si spostò e gli aprì le porte del tesoro pubblico poco dopo arrivati al lato opposto del foro davanti al tempio di cesare i quattro si fermarono di nuovo e bruno stava per continuare quando fu interrotto da dorale che per un paio di minuti non aveva detto niente e io che ammiravo tanto giulio cesare esclamò la brava donna e invece lei ci racconta che era semplicemente un ladro non posso crederci ma infatti non lo era neppure le rispose bruno o in ogni modo non era un semplice ladro fu grande in tutto ciò che fece nel bene come nel male e lei può tranquillamente continuare ad ammirarlo ah vorrei crederle ma disse dorabile soggiunse in ogni modo mi ci proverò grazie disse disse il giovanotto ridendo e continuò dal punto in cui era stato interrotto il tempio di saturno ci ha fatto rivivere una scena della vita di cesare il tempio davanti ai cui resti ci troviamo ora ci farà rivivere le sue ultime ore facciamo ancora qualche passo ed eccoci all'entrata della regia edificio dove allora stava cesare e portiamoci con l'immaginazione alla mattina del 15 marzo dell'anno 44 avanti cristo cesare che poco tempo prima era stato nominato dittatore a vita e a cui il senato il senato secondo certi storici romani stava per conferire se non il nome almeno i poteri di un re cesare si preparava ad uscire per recarsi appunto al senato i senatori quel giorno si riunivano nella cosiddetta curia di pompeo a circa mezzo chilometro dal luogo dove ora siamo noi e dove oggi c'è la chiesa di sant'andrea della vale infatti il senato non si riuniva sempre nella curia del foro cesare però non si decideva a muoversi quel potente dittatore quell'uomo che comandava su un immenso impero credeva ai sogni come quasi tutti i romani e quella notte sua moglie calpurina calpurnia aveva sognato che il tetto della reggia era caduto e che cesare era stato ucciso fra le braccia ma uno dei suoi migliori amici quanto male hanno fatto nella storia i cosiddetti migliori amici dei grandi uomini brutto lo stesso che mezz'ora dopo doveva essere fra i primi a colpirlo li domandò che cosa avrebbero detto i suoi nemici se avessero saputo che il padrone di roma per occuparsi degli affari dello stato aspettava che sua moglie faccesse un bel sogno cesare si decise allora a lasciare la casa e si avviò con brutto verso il luogo di riunione del senato per strada alcuni storici latini dicono davanti alla curia di pompeo qualche momento prima che cesare fosse assassinato un altro amico del dittatore ma uno è vero questa volta avendo scoperto ciò che si preparava contro di lui gli diede una lettera lettera in cui lo avvertiva del pericolo e rivelava i nomi delle persone che avrebbero cercato di assassinarlo ma cesare non sapendo quanto fosse importante quella lettera la mise fra le altre cose che portava con sé e proseguì il suo cammino verso la morte appena fu entrato nella curia di pompeo venne circondato da nemici che lo colpirono con le armi che avevano nascoste nelle toghe cesare provò a difendersi ma quando vide che anche brutto alzava il braccio per colpirlo si lasciò uccidere senza più resistere esclamando anche tu brutto figlio mio così morì il grande cesare gli assassini volevano gettare il corpo di cesare nel tevere ma il popolo non lo permise anzi essi dovettero fuggire e mettersi al riparo del furore del popolo in un tempio del campidoglio qualche ora dopo che cesare era uscito di casa quattro schiavi riportavano il suo corpo alla regia grande fu il furore di roma alla notizia dell'assassinio così grande che il giorno dopo il popolo fece un immenso rogo e su quel rogo bruciò il corpo del dittatore ucciso da quel giorno cesare fu considerato come un dio e poco dopo un tempio il tempio di cesare dio quel tempio che vediamo lì e davanti al quale siamo passati poco fa fu costruito sul luogo stesso del rogo per qualche minuto tutti e quattro rimassero zitti ripensando a quel giorno così remoto in cui forse il destino di roma e con lei del mondo era stato cambiato poi guardando l'orologio bruno esclamò ah e si fa tardi abbiamo appena il tempo di vedere il tempio di vesta e la casa delle vestali e poi bisognerà andarsene ma potremmo continuare un'altra volta le vestali mi sembra che lei ce ne abbia già per parlato no domandò dorabile e poi senza aspettare la risposta di bruno aggiunse non erano quelle donne vestite di bianco che stavano sedute in prima fila al colosseo bruno e vespucci sorrisero ciò che offese la brava dorabile che rossa in viso esclamò e caro mio io non sono mica come lei che ha letto tanti libri su roma posso anche sbagliar mio però questa non mi pare una buona ragione perché lei si beffi di me come se fossi inunirante mi scusi cara signor adorabile disse bruno lei ha detto una cosa giustissima era solo il suo modo di dirlo che ci è sembrato tanto divertente ma le vestali erano ben più di semplici donne vestiti di bianco che avevano diritto ai migliori posti nel colosseo e in altri luoghi le vestali erano sei vergi vergini sei giovani donne o piuttosto fanciulle scelte in età fra i sei e i dieci anni e che per trent'anni dovevano rimanere al servizio della dea vesta passati questi trent'anni esse avevano il diritto di sposarsi se lo volevano se no rimanevano fra le altre vestali per servirle i doveri delle sei vestali erano ci pare oggi molto pochi semplicissimi in primo luogo esse dovevano badare che il fuoco che giorno e notte ardeva nel tempio di vesta non si spegnesse mai inoltre esse dovevano custodire diversi oggetti preziosissimi a cui era legato il destino stesso di roma i quali si trovavano in una specie di stanza segreta del tempio sempre chiuso e in cui nessuno fuorché le vestali aveva il diritto di entrare doveri semplici ma sfortunata la vestale che lasciava spegnersi il fuoco della dea o si lasciava vincere dall'amore il destino della sciagurata che non manteneva la promessa fatta alla dea era terribile un corteo la conduceva fino a un luogo fuori di roma lì essa scendeva una piccolissima cella scavata sottoterra e contenente un letto un po di pane del vino dell'acqua e una lampada ardente appena la sciagurata era entrata nella cella chiudevano l'entrata e la vestale era condannata a morire lentamente di fame e di sede è orribile esclamò joy ma come mai quelle fanciulle accettavano di farsi i vestali e risposi bruno prima di tutto erano così giovani che veramente non erano loro a decidere ma decidevano i loro genitori e di solito le sei vestali si trovavano facilmente perché i diritti che avevano erano tanti che pesavano ben di più dei loro dove doveri pensi un po avevano come ha detto la sua mamma i migliori posti a ogni spettacolo a tutti i giochi pubblici avevano il potere di perdonare un condannato se lo incontravano per caso sul loro cammino i consoli consoli stessi li lasciavano passare per prime se lo incontravano chiunque faceva loro la minima offesa era severamente punito se moria se morivano mentre erano al servizio di vesta erano sepolte dentro le mura di roma cosa a cui pochissimi avevano diritto tanti diritti e una vita che potevano condurre solo le più ricche e potenti donne di roma tutto ciò basta a spiegare perché molte fanciulle romane considerassero come una fortuna di essere elette vestali e perché d'altra parte in oltre dieci secoli 18 vestali solamente avessero ha rischiato la propria vita per l'amore di un uomo 18 solamente mormorò dorabile chissà cosa avrei fatto io se fossi stata una vestale tu cara esclamò suo marito ridendo ma probabilmente tu non saresti mai stata scelta e dorabile offesa disse oh perché no mi sarebbe proprio piaciuto sai ma tu come tutti gli uomini non ne capisci nulla bruno torniamo a casa sono stanca di andare in giro fra queste pietre come vuole cara signora disse il giovanotto per oggi basta domani forse visiteremo il colosseo e poi ma non so ancora vedremo e i quattro lasciarono il foro romano